Siamo in compagnia di Simona Torretta di Un Ponte Per. Simona molto gentilmente ci è venuta a trovare qua in associazione e come ricorderete è divenuta particolarmente popolare in occasione del suo rapimento in Iraq. Stasera abbiamo la possibilità di scambiare due chiacchiere con lei e quindi se volete fare qualche domanda, Simona è completamente a vostra disposizione. Ciao Simona, sono Moira. Ciao. Senti, io ti volevo chiedere questo, se ci parleresti dei progetti in corso di Un Ponte Per in Iraq ad oggi? Di quest'ultimo periodo, diciamo, chiaramente dal 2004 ad oggi l'associazione si è molto concentrata verso il sostegno di quelle organizzazioni irachene che sono rimaste nel paese, quindi in Iraq e che lavorano soprattutto per sia la denuncia delle violazioni che vengono commesse nel paese verso la popolazione civile che per la costruzione di iniziative che vertono verso comunque una crescita e una maggiore responsabilizzazione del ruolo della società civile irachena. È vero che noi riceviamo dai media un'immagine dell'Iraq molto drammatica perché purtroppo in Iraq ogni giorno ci sono morti, ci sono violenze, ci sono situazioni che stanno frammentando, distruggendo la società civile. Però c'è anche un'altra parte della popolazione irachena che lavora in una direzione contraria e che sta avviando, anche se in condizioni, diciamo, di insicurezza, di mancata stabilità dei percorsi di solidarietà, di assistenza alle persone più debole, alle categorie più vulnerabili e anche di percorsi sulla non violenza. Ad esempio nel mese di giugno-luglio alcuni studenti delle università irachene hanno organizzato una settimana sulla non violenza pubblicando, più che pubblicando, ecco, distribuendo tutta una serie di volantini che descrivevano quelli che sono appunto i principi della pratica della non violenza e l'hanno distribuito nei quartieri della capitale, anche in altre città del paese e soprattutto si sono riuniti tra studenti per trovare assieme delle strategie comuni per combattere appunto questa violenza che è piuttosto invasiva. Certamente sono iniziative al momento, come dire, piuttosto individuali e poco visibili però esistono e a queste persone che fa appunto il nostro sostegno. Quindi fondamentalmente non ci stiamo occupando di questo poi nel merito, diciamo, dei progetti veri e propri in questo momento stiamo concentrando il nostro intervento nelle carceri irachene perché la situazione comunque dei detenuti è drammatica purtroppo oramai in una maniera anche molto, come dire, con una crescita anche abbastanza repentina sono aumentati gli arresti di massa e quindi ci sono moltissime persone che vengono quotidianamente detenute senza sapere il motivo della loro detenzione e poi si ritrovano a vivere in questi centri di detenzione, in queste carceri e a subire tutta una serie di maltrattamenti, di torture, di abusi. E questa è una situazione molto grave perché poi queste persone una volta che escono fuori da queste condizioni, diciamo, di detenzione si ritrovano praticamente a ritornare in una società senza avere più il proprio lavoro aver perduto praticamente il proprio lavoro quindi la sussistenza economica che ti garantisce di sopravvivere e molti di questi poi hanno talmente tanta rabbia che finiscono praticamente per arruolarsi nei gruppi armati e quindi aumentare la violenza nel paese. Senti, nello specifico di cosa ti occupavi prima del rapimento? Sì, no, io durante tutto il periodo in cui sono stata a Bagdad diciamo mi sono occupata di diverse cose fondamentalmente avevo un ruolo di coordinamento perché la mia posizione era di capo missione quindi io ero la responsabile, diciamo, dell'ufficio di un ponte perre sia a Bagdad che a Bassora perché noi avevamo due uffici una a Bagdad che è la capitale a Bassora, la città del sud dell'Iraq e in quel momento noi ci occupavamo di una serie di progetti che avevano a che fare sia con l'assistenza più immediata e diretta per la popolazione, quindi avevamo interventi sanitari nelle scuole, negli ospedali pubblici che poi ci occupavamo anche di progetti, diciamo, più a lungo termine che avevano a che fare, per esempio, con la ricostruzione e la riabilitazione della Biblioteca Nazionale di Bagdad quella appunto che fu saccheggiata e distrutta con l'arrivo, diciamo, dell'invasione straniera nell'aprile 2003 e questo è stato un progetto molto interessante dove io in realtà ho dato, ecco, maggior contributo nel senso perché in passato io mi sono occupata molto di progetti culturali interuniversitari per cui con l'associazione decidemmo appunto di dare seguito a questa nostra esperienza e di dare un contributo per risollevare una biblioteca che in realtà era, conteneva patrimonio storico di importanza mondiale e grazie al nuovo direttore che è questo giovane appunto kurdo che viveva in esilio, diciamo, nei tempi di Saddam è tornato poi in Iraq appunto per contribuire alla ricostruzione del paese avviamo tutta una serie di iniziative, di interventi che nel breve termine poi dietro anche appunto dei importanti risultati come la ricatalogazione di tutto il sistema librario che era stato appunto danneggiato incendiato e poi riuscimmo anche a dare il loro lavoro a nuovo personale a dei nuovi bibliotecari e questo è un progetto che devo dire è continuato ad andare avanti quindi è proseguito anche dopo sia durante il nostro rapimento che dopo il nostro rapimento e ancora oggi comunque l'associazione sostiene questa appunto ricostruzione rivetalizzazione, diciamo, della Biblioteca Nazionale di Baghdad grazie, prova addetto, al lavoro di più di 200 bibliotecari e del direttore ciao Simona ciao volevo chiederti una cosa cosa ti ha spinto nel 2003 nonostante il pericolo a ritornare in Iraq? allora parli della guerra? sì ma diciamo che questo era il mio lavoro nel senso che io già dal 98 io ero andata la prima volta in Iraq nel 94 ma fu un'esperienza, diciamo, personale legata a un'iniziativa di un'associazione culturale di cui facevo parte allora e poi nel 96 cominciò il mio impegno da volontaria con l'associazione Un Ponte Per e nel 98 ritornai appunto in Iraq per seguire un progetto di cooperazione intero universitario e quelli erano gli anni dell'embargo gli anni molto duri per l'Iraq erano gli anni del regime certamente i Saddam Hussein ma c'erano anche queste sanzioni economiche che avevano praticamente impoverito portato il collasso economico nell'arco di qualche anno il paese e quelli però sono stati anche anni che mi hanno permesso di conoscere il paese di conoscere la popolazione di vivere in un contesto che per me era alquanto sereno al di là comunque di tutte le problematiche che esistevano dentro quindi poi ritornarci durante la guerra era stata come dire una scelta abbastanza naturale come dire una conseguenza diretta di un impegno che era cominciato già negli anni precedenti e noi ci siamo chiesti comunque ci siamo domandati più volte se valeva la penna o meno di essere in Iraq durante un momento così difficile però ci siamo anche risposti che come associazione umanitaria e per il semplice fatto che noi eravamo anche nati come un ponte per Baghdad era alquanto naturale in quel momento trovarci accanto alla popolazione e per me è stata un'esperienza molto importante quella di trovarmi in Iraq durante i bombardamenti a parte vabbè difficoltà di assistere comunque a una guerra che è una situazione comunque sempre molto brutta molto difficile molto pericolosa e quindi c'era una grande partecipazione collettiva a un problema che veniva dall'alto perché poi i bombardamenti anglo-americani erano molto forti molto presenti di giorno e di notte però fu importante perché in quell'occasione ebbi comunque la possibilità di sentirmi parte di una della storia mi sentivo parte di questa storia che stava cambiando e vivere in Iraq prima durante e dopo mi ha permesso anche di riuscire comunque a cogliere quei cambiamenti che nel paese stavano avvenendo e che probabilmente io avevo più rispetto ad altri che erano arrivati dopo la consapevolezza la conoscenza di quello che stava accadendo e per cui per me è stata come dire una scelta abbastanza naturale abbastanza spontanea e che in un certo senso mi rendeva anche quasi privilegiata perché era un testimone diretto di quello che stava accadendo e io volevo raccontare in prima persona quello che stava accadendo infatti oltre ad occuparci anche di interventi di assistenza verso gli ospedali perché rifornivamo soprattutto di acqua potabile gli ospedali che durante la guerra non riuscivano comunque ad avere le stesse forniture da parte del governo contemporaneamente noi facevamo anche un'informazione sulle conseguenze della guerra confronti della popolazione irachena a proposito proprio della gente della popolazione irachena secondo te come percepisce la gente gli attacchi contro la coalizione? ma guarda diciamo che dall'inizio della prima insurrezione chiamiamola anche così ad oggi sono cambiate molte cose è cambiato il contesto è cambiata la natura degli attacchi probabilmente oggi quella che prima era cominciata come una bugia è diventata una verità nel senso che oggi purtroppo l'Iraq è il centro del terrorismo una realtà che prima però non esisteva in Iraq non esisteva anzi perché tutto si poteva dire tranne che questo perché Saddam di fatto era anche un leader che non era apprezzato da leader religiosi in quanto lui comunque era visto come una figura troppo laica e che allontanava in un certo senso quelle che erano tutta una serie di influenze religiose il terrorismo per oggi c'è in Iraq c'è in una maniera anche molto forte anzi oramai il terrorismo viene importato dall'Iraq i primi terroristi sono stati gli americani questo non lo dico io ma lo dico tantissimi studiosi giornalisti internazionali di fame internazionale perché sono stati i primi ad utilizzare delle armi di distruzione di massa delle armi indiscriminate basta pensare a quello che hanno fatto gli americani contro una città come Fallugia dove sono morte centinaia di persone parlo di civili che non hanno voluto nessuna guerra e che per prime comunque sia non erano neanche capaci di rispondere militarmente a un'offensiva di questo tipo basta pensare quindi a tutte le rappresaglie militari che hanno fatto gli americani basta pensare alle torture a cominciare da Abu Ghraib in poi perché poi Abu Ghraib non è una realtà del passato ma è ancora presente quindi se dobbiamo poi parlare dell'offensiva loro sono stati i primi terroristi poi da lì sono state come dire sono aumentate sono state finanziate sostenute tutta una serie di situazioni di gruppi che tuttora vengono legittimati basta pensare anche agli squadroni della morte sia dalle forze multinazionali che anche dal governo iracheno questa è una situazione come dire che purtroppo non garantisce quella stabilità che sarebbe necessaria appunto affinché il paese possa come dire avere una stabilità per crescere per costruire per per avviare anche degli interventi di ricostruzione ecco grazie grazie a te ciao Simona io ti volevo fare una domanda sempre sul prima e sul dopo come è cambiato se è cambiato il diritto di famiglia prima e dopo Saddam il diritto di famiglia allora magari su questo ti racconto una vicenda più che subito dopo l'arrivo quindi degli americani e con l'instaurarsi di questa coalizione questa autorità della coalizione provvisoria che era appunto capeggiata da Paul Bremer non so se ve lo ricordate è stata questa autorità straniera che si era insediata nel paese dopo appunto la caduta di Saddam dopo un po' di tempo promulgò diciamo promulgaro una serie di ordini quasi editti tra questi c'era anche quello appunto di cambiare la legge sulla famiglia la legge precedente non è una legge basata fondamentalmente sul diritto laico per cui le donne grazie anche a tutta una serie di interventi iniziative avevano raggiunto una certa equità anche salariale nei confronti appunto dell'uomo avevano raggiunto comunque tutta una serie di diritti che questa nuova legge avrebbe in qualche maniera cambiato perché si basava soprattutto sulla tradizione della legge islamica cioè la sharia e questa questo ordine che era stato appunto promulgato da Bremer scatenò le reazioni immediate di tantissime donne irachene che immediatamente dopo scesero in piazza ci fu una grandissima manifestazione a Baghdad adesso purtroppo non ricordo bene la data ma era intorno a quel periodo maggio-giugno diciamo 2003 che portò anche alla conoscenza grazie ai medi internazionali perché allora ce n'erano molti comunque nel paese di forte come dire capacità e movimento della società civile irachena e anche del ruolo femminile del ruolo femminile iracheno cosa che appunto fino a poco prima si sottovalutava e questa mobilitazione riuscì comunque in qualche maniera a impedire la riconferma ecco di questa nuova legge e infatti per un certo periodo comunque Brenner l'ha sospesa e l'ha cantonò chiaramente poi ci sono state tutta un'altra serie di situazioni che purtroppo hanno messo anche in secondo piano la necessità anche di riparlare di questo argomento perché oggi invece vediamo che la situazione delle donne è peggiorata perché è continuamente minacciata da una come dire un'influenza sempre più forte dei gruppi direi quasi religiosi ma fondamentalisti religiosi ultimamente stavo leggendo anche in questi giorni un rapporto delle Nazioni Unite sui diritti umani in Iraq come faceva presente che sono aumentati i delitti d'onore in Iraq che cosa che prima non esistevano nei confronti appunto delle donne e molte donne avvocato che si occupano anche di queste situazioni vengono continuamente minacciate una di queste purtroppo è rimasta uccisa recentemente da un gruppo armato sconosciuto di cui non si sa il nome ma che ha lasciato un biglietto sulla sua scrivania dicendo questo è quello che accadrà a tutte coloro che si occuperanno di questioni che non hanno a che fare con che hanno praticamente a che fare con i nostri diritti con i diritti islamici e questo come dire è un piccolo aspetto di una situazione come dire che ha in qualche maniera invaso tutta la sfera sociale e tutta la sfera femminile e anche il ruolo stesso delle donne oggi purtroppo è compromesso dalla situazione attuale grazie prego ciao Simona sono Ivana ciao ti volevo chiedere siccome hai parlato di Fallugia e mi risulta che avvate progettato ad andare a Fallugia poi a seguito del rapimento non siete potuti andare se questo fatto può avere influito e può avere quindi disturbato qualcuno questo progetto guarda il nostro rapimento è avvenuto nel settembre 2004 il 7 settembre 2004 quando diciamo stavano in un certo senso terminando le rappresali militari contro la città scita di Najaf più che di Fallugia perché Fallugia diciamo l'attacco l'offensiva vera e propria l'assedio militare americano c'è stato tra l'aprile e il maggio 2004 dove noi comunque abbiamo sostenuto una serie di interventi di emergenza per garantire alla popolazione soprattutto dell'acqua potabile quindi quel periodo noi veramente eravamo più impegnati sulla situazione ecco di Najaf e anche per Najaf dal nostro ufficio di Baghdad poi noi lavoravamo con alcuni attivisti di Najaf abbiamo garantito l'acqua potabile agli abitanti che erano rimasti comunque chiusi da questo assedio militare per cui come dire non credo ecco che ci siano delle relazioni importanti ecco tra il nostro sequestro e l'assedio di Falluggia anche per le modalità comunque con cui è avvenuto il nostro rapimento che fino ad allora diciamo non era ancora accaduto che delle persone comunque degli stranieri venissero rapiti direttamente nella propria casa nel proprio ufficio però credo che poi anche rispetto al diciamo a quella che è stata poi il lavoro per la nostra liberazione il fatto stesso che noi avessimo lavorato molto per garantire comunque assistenza alla popolazione di Falluggia abbia anche dato un contributo per la nostra liberazione grazie grazie a te secondo te è cambiato il vissuto della popolazione rispetto alla coalizione occidentale quindi dal momento in cui sono arrivate le truppe occidentali magari se riesce a spiegarci come la popolazione ha accolto e che cosa è cambiato nel corso del tempo almeno per il periodo nel quale si è stata attuata in Iraq cioè la percezione della popolazione rispetto alla coalizione alla coalizione io ricordo comunque che fin dall'inizio gli occupanti sono stati percepiti come occupanti e tali rimangono fino ad oggi soprattutto perché quelli che comunque sono arrivati fin dai primi giorni dopo la fine dei bombardamenti erano gli stessi che avevano bombardato il paese e non dimentichiamoci che comunque quei bombardamenti avevano distrutto sia materialmente fisicamente un paese perché comunque delle bombe avevano fatto una serie di danni che ucciso e ferito numerose persone e quindi e poi va anche detto che quelli erano gli stessi che avevano sostenuto un embargo per 12 anni e che avevano portato a un impoverimento della popolazione quindi nessuno aveva una come dire garanzia che questi fossero diciamo venuti per in qualche maniera dei principi buoni possiamo usare questo termine per la popolazione irachena tutti erano consapevoli che l'interesse diciamo anglo-americano derivava da altre motivazioni e che poi tutti quanti oggi sappiamo benissimo va detto chiaramente che nessuno pensava che questa diciamo questa guerra questa occupazione potesse avere dei risvolti tali da portare diciamo la situazione del paese a un a un collasso tale che oggi ecco risulta quasi difficile pensare veramente ad una ripresa ad una riappacificazione in tempi brevi e se guardiamo come dire a quelle che sono state le stime che appena come dire dichiarato questa rivista scientifica Lancet che parla appunto di più di 600.000 morti dall'inizio dell'invasione fino ad oggi questo è un dato drammatico che non può lasciarci indifferenti anche se tutti quanti come dire ogni giorno oramai eravamo quasi a sue fatti da questo bollettino quotidiano di morti iracheni che parlava di 100 200 o meno di persone ma anche se fossero stati meno in ogni caso non è forse neanche questo il problema però abbiamo questo dato ed è un dato che a mio parere è attendibile rispetto a quelle che sono le modalità di lavoro e di come dire metodologia appunto di raccolta dati di una rivista scientifica come quella Lancet non ci può appunto lasciare indifferenti dovrebbe avviare con una sorta di riflessione collettiva rispetto a quelli che sono stati i danni che una comunità internazionale ha commesso nei confronti di una popolazione per pensare al risarcimento collettivo nei confronti di una popolazione irachena qualcuno un giorno dovrà pensare a risarcire questa popolazione di tutti i danni materiali e di vite umane che ha subito dall'inizio della guerra fino ad oggi quindi tutto ciò che ci è stato mostrato dal sistema mediatico ufficiale non corrisponde al vero quindi l'acclamazione della folla all'entrata a Baghdad dei carri armati americani la distruzione della statua di Saddam ma quella oggi si sa è stato anche poi recentemente come dire confermato che è stata una situazione montata creata sul momento e io questo lo dicevo fin da allora perché stavo lì e mi sono comunque si è guardata questo teatrino fin dal primo momento e come dire era un testimone un piccolo testimone che non aveva nessun significato rispetto a quello che stava accadendo in quel momento però come dire recentemente è arrivata la conferma che quella fu come dire una situazione creata sia giusto dirlo sì secondo me credo che vadano ripetute le cose fino come dire alla nausea perché quando come dire la condolessa Rai se recentemente ha detto in Iraq abbiamo fatto moltissimi errori ma non nella strategia ecco in questi moltissimi errori hanno perso la vita centinaia migliaia di persone e quindi nessuno si può permettere di dichiarare una frase del genere senza pensare che dietro a questa frase ci sono le persone cioè persone sono morte e questa per me come dire rimane come dire un qualcosa che mi fa stare male di cui ecco la rabbia di cui parlavo prima porto la mia rabbia quando ecco sento questo tipo di dichiarazione quindi l'affermazione esportiamo la democrazia corrisponde a che cosa secondo te? ma come dire questi sono gli stessi iracheni che si chiedono appunto noi non la vogliamo questo tipo di democrazia loro stessi dicono noi questo tipo di democrazia non la vogliamo tenetevela portatevela a casa vostra fateci quello che vi pare ma non venite a casa nostra così ma è possibile esportarla alla democrazia con le armi? chiaramente ecco appunto poi se vogliamo entrare nell'origine delle cose sappiamo benissimo che questi sono come dire slogan che servono a giustificare tutta una serie di manovre di operazioni militari ma che poi di fatto non dicono nulla non vogliono dire assolutamente nulla la democrazia è un processo che innanzitutto vede appunto credo proprio come principio base la partecipazione delle persone se tu fin dall'inizio e arrivi e entri in un paese colonizzi un paese e ti crei diciamo una situazione per cui sei tu a comandare quel paese ti costruisci una green zone loro si sono costruiti una green zone una zona verde praticamente hanno blindato un'intera zona dove la gente abitualmente circolava normalmente per insediarci sì dentro e da lì comandare il paese e controllare il paese come dire non puoi arrivare e smantellare un esercito perché quell'esercito garantiva comunque la sicurezza nel paese non puoi arrivare e distruggere le istituzioni abolire improvvisamente il ministero dell'informazione e mandare a casa 3.000 persone non puoi arrivare e costruire delle carceri e torturare le persone perché poi le torture se tu vai a leggere i rapporti di Human Rights Watch della Croce Rosa Internazionale vai a vedere che loro fin dal maggio del 2003 cioè quindi da un mese da quando sono arrivati hanno cominciato a torturare le persone che significa questo che tu neanche sei arrivato e che già c'avevi in testa che dovevi in qualche maniera fargli del male neanche sei arrivato in questo paese cioè le torture non sono avvenute dopo tre anni magari dopo un esasperamento come dire sono avvenute fin da quando loro hanno messo piedi nel paese quindi questo è un dato che in qualche maniera ci fa capire il sistema la mentalità l'arroganza l'obiettivo cioè quello appunto di destrutturare un paese di indebolire una società perché poi la tortura ha come fine ultimo a quello proprio di indebolire l'individuo di umiliarlo di fronte agli altri di fronte alla sua società l'Iraq cosa rappresenta per il Medio Oriente a vantaggio dell'Occidente la destabilizzazione dell'Iraq l'ulteriore destabilizzazione dell'Iraq che cosa rappresenta per l'Occidente a livello di interesse economico a livello di politica globale e via discorrendo ma il controllo del petrolio cioè il mantenimento comunque la stabilità del prezzo del petrolio questo è chiaro cioè questa sorta di guerra civile a bassa intensità fa comodo fa comodo agli Stati Uniti fa comodo a moltissime persone in questa maniera comunque si mantiene il controllo dei giacimenti petroliferi iracheni c'è il controllo delle basi militari e poi c'è come dire una sorta di ricatto di sottofondo la dipendenza perché gli iracheni in questo momento hanno ancora bisogno degli americani per garantire la sicurezza del paese perché non si fidano più dell'esercito iracheno che ancora più corrotto degli stessi americani quindi come dire cioè crei una dipendenza e quindi tu ti garantisci la sopravvivenza la continuità e la presenza tua sul territorio una volta si chiamava colonialismo adesso la chiamano guerra preventiva va bene sì siamo sempre là come dire il linguaggio poi si arricchisce di nuove cose di nuove parole vediamo se ci sono altre domande che sono rimaste fuori quella dei bambini tu hai lavorato con i bambini nell'ambito del progetto era una curiosità che era nata oggi si diceva appunto che visto che tu hai lavorato con i bambini iracheni se potessi fare un confronto tra i comportamenti tra i bisogni e tra le reazioni a determinate situazioni che insomma stanno vivendo questi bambini tra i bambini iracheni e quelli italiani la curiosità che era uscita oggi beh guardo questo probabilmente è la nota più dolente perché cioè quando parliamo di bambini abbiamo a che fare comunque con degli individui che come dire non hanno forse la consapevolezza che si ritrovano a vivere ecco una situazione senza neanche sapere perché l'ultima volta che sono stata da Mann e vi racconto questo fatto più che altro che vi dà un po' la misura di quella che è la situazione infantile sono venuta a contatto cioè ho conosciuto ecco un caso molto drammatico di un bambino di Falluggia che era quasi completamente sfigurato perché dal 2003 durante appunto questi bombardamenti un missile aveva colpito dei barili di benzina che si trovavano nelle vicinanze della sua casa e lui è rimasto completamente investito dal fuoco e lui oggi è completamente deturpato ha parte del volto deturpato la parte superiore del corpo completamente sfigurata lui ha 11 anni questo è successo tre anni fa per lui sono tre anni che praticamente la sua vita è ferma perché lui si vergogna di andare a scuola si vergogna praticamente ad uscire di casa l'unica attività sportiva che porta avanti è quella appunto di andare a bicicletta e tutto questo lo fa in una città come il Ramadi che è nelle vicinanze di Falluggia che è stata recentemente appunto bombardata e ancora continua ad essere soggetta a numerosi attacchi da parte delle forze della coalizione straniera e di bambini come lui feriti dalle numerose adobomme dalle guerre ce ne sono tantissimi ma la cosa più grave è che in Iraq o nella capitale irachena oggi non ci sono le strutture ospedaliere adeguate per affrontare questo tipo di problemi e la maggior parte dei medici sono scappati dal paese perché ultimamente sono stati soggetti a numerose persecuzioni uccisioni extra giudiziare quindi non hai neanche più quella risposta medica che ti permette in qualche maniera di risolvere dei casi dei problemi di questo tipo per non parlare che poi purtroppo oggi i rapimenti i bambini sono anche soggetti a rapimenti per ragioni di estorsione e quindi molte famiglie non se la sentono di mandare i propri bambini a scuola perché temono che poi o finiscono vittime di un attentato di un rapimento o di qualche altra ecco vicenda sgradevole hai a che fare con una situazione dove purabilmente ecco questa generazione la generazione dell'embargo la generazione di questi anni è completamente compromessa e questo è come dire è un danno gravissimo quindi la situazione della sanità è a pelle la situazione della sanità è gravissima e questo è denunciato anche dal dall'organizzazione mondiale della sanità dall'unicef stesso purtroppo c'è un problema anche di accesso perché per molte aree purtroppo è diventato anche difficile uscire di casa recentemente il governo iracheno aveva dichiarato tre giorni di coprifuoco per tutto il giorno e tutta la notte cioè le persone non potevano più uscire di casa né di giorno né di notte quindi hai un problema di accesso perché i malati o feriti o comunque le persone indigenti non riescono ad arrivare ai luoghi ai posti dove potrebbero eventualmente ecco curarsi e acquistare delle medicine fino a ricevere delle cure delle visite mediche cioè è un problema di accesso molto forte però gli ospedali funzionano i farmaci ci sono le attrezzature tecniche sì funzionano come dire c'era già una situazione di emergenza a cominciare cioè questi sono problemi cronici che purtroppo sono peggiorati nell'arco di questi anni e però va detto che ecco mentre in Iraq magari non mancavano i farmaci ma avevi dei medici facoltosi perché poi comunque negli anni tra gli anni 70 e 80 c'era stato un grande investimento nella cultura e nell'istruzione e molti anche dai paesi arabi venivano in Iraq per studiare proprio perché questo veniva riconosciuto all'Iraq questa grande capacità culturale però adesso molti medici hanno lasciato il paese perché ci sono continue minacce e persecuzioni nello confronto non soltanto nei confronti medici della classe intellettuale dei professionisti avvocati tutta questa classe è stata praticamente messa messa in gioco messa in discussione sono Tafà ciao allora ho due domande prego la prima torno un po' indietro perché sei stato in Iraq molto prima della guerra nel 98 e nel 94 se ho capito bene ma secondo te l'aria di tensione di una guerra civile tra sciiti e suniti si respirava a quei tempi guarda allora c'era un altro tipo di problemi probabilmente bisognerebbe tornare molto indietro con la storia per capire anche comunque questi paesi come sono come sono nati sono stati poi disegnati 1920 primi anni gli anni 90 ecco dai britannici fondamentalmente quando hanno comunque suddiviso la Mesopotamia e quindi queste popolazioni si sono ritrovate poi ecco a vivere dentro uno stesso stato e allora comunque c'era un forte nazionalismo arabo a parte comunque sia io direi di in questo momento lasciare da parte la situazione del Kurdist era che no comunque per tutta l'altra parte del paese c'era un forte nazionalismo arabo e la popolazione era una popolazione mista la maggior parte dei matrimoni erano misti tra sciiti e suniti e tuttora io conosco molte famiglie miste e mi dicono cosa dovrei fare dovrei ammazzare mia moglie per cui il problema dell'identità non era un problema sentito non era neanche un problema prima di tutto gli iracheni si sentivano gli iracheni e poi eventualmente si sentivano sciiti sunniti come dire non c'era questa esigenza di affermare la propria chiamiamola diversità religiosa o confessionale è stato invece un problema che è sorto subito dopo la caduta di Saddam perché per la prima volta quando si è costituito il primo consiglio di governo iracheno quello che è stato eletto e deciso dalle autorità della collezione provvisoria è stato fatto per la prima volta nella storia irachena su base confessionale ed etnica cioè i membri non venivano eletti in funzione diciamo della loro appartenenza a un partito politico ma venivano eletti in base alla loro appartenenza confessionale dette quindi per la prima volta loro avevano messo in pieti un piccolo governo di persone che rappresentavano delle comunità delle comunità sciite delle comunità sunnite e via dicendo e poi c'è stata questa operazione che è stata portata avanti anch'essa dall'autorità della collezione provvisoria che appunto è nota come processo di debattificazione cioè quello di epurare dagli istituti dalle istituzioni dalle università dai luoghi pubblici tutti quei membri che appartenevano più o meno formalmente al partito Abbast al partito praticamente di Saddam ma quando ha a che fare con una dittatura chiaramente e soprattutto per gli universitari perché durante Saddam per esercitare la professione di docente universitario eri obbligato a iscriverti al partito di Saddam al partito Baf eri obbligato altrimenti non potevi esercitare la professione di docente universitario e quindi non potevi campare non potevi ricevere un salario quindi loro hanno portato avanti una operazione che in qualche maniera cioè se la prendeva con tutte quelle persone che solo formalmente erano del partito Baf però facendo questo loro hanno fatto in modo sia di togliere dall'università tutta una serie di figure che erano molto qualificate e stimate in tutti gli ambienti universitari professionali e poi hanno praticamente legittimato una campagna contro i sunniti perché questo processo di obbligazione è diventato piano piano una campagna contro i sunniti perché la maggior parte di coloro che avevano a che fare comunque con il partito Baf erano in realtà sunniti quindi da queste diciamo operazioni poi piano piano si hanno poi con tutta una serie anche di di sostegni dell'emergere anche comunque di leader religiosi che si è arrivati diciamo al manifestarsi di queste differenze di queste identità di queste tensioni e questo è il problema più grave oggi nel paese perché questo sta provocando numerosi spollati se ne contano più di 300.000 secondo l'UNHCR che è l'ufficio delle Nazioni Unite appunto per i rifugiati perché molti quartieri molti sciiti vengono o molti sunniti invitati a lasciare quella zona per unirsi diciamo e quindi integrarsi in zone diciamo più etnicamente omogenee e la seconda è che oggi come oggi per te la popolazione irachiana è pronta a auto-organizzarsi verso come si dice un movimento o un progetto rivoluzionario di pace ma guarda ci sono più che altro iniziative o individuali o di associazioni chiaramente queste iniziative che sono anche positive nel senso che vanno verso la riconciliazione verso l'affermazione di diritti umani verso l'unità nazionale però si scontrano anche con la realtà di tutti i giorni che è una realtà molto stile molto difficile che divide di fatto non unisce in questo momento per cui come dire c'è un'attenzione da parte di molte organizzazioni di molte persone di lavorare verso questa direzione ma è uno sforzo quotidiano molto impegnativo adesso ti lasciamo libera perché dovete andare ti ringraziamo moltissimo grazie grazie a voi ringraziamo grazie ringraziamo un ponte perla di Bologna quindi Nadia d'Arco e complimenti per il lavoro che state svolgendo grazie grazie a voi grazie grazie a tutti e più tempo abbiamo più lato e più grazie a tutti